Sci, sci, alpinismo, short track, ma anche karate, ginnastica artistica, biathlon, corsa in montagna e atletica leggera. Si sono affermati nello sport, rappresentando la provincia di Sondrio in competizioni di livello nazionale, ma anche europeo e mondiale, e hanno contribuito con i propri studi a mettere in risalto particolarità e risorse di Valtellina e Valchiavenna. Anche quest'anno il consorzio BIM dell'Adda ha segnato le borse di studio a 15 giovani sportivi e a 10 neolaureati. 1.500 il valore del riconoscimento per le lauree magistrali, 4.000 euro per le lauree triennali e stessa cifra per le borse di studio a livello sportivo. La commissione per i premi agli sportivi era composta da Ettore Castoldi, Cesare Pedranzini e Micaela Tralli. Quella per le borse di studio e laureati da Cesare Pedranzini, Alberto Gerosa e Micaela Tralli. Ieri pomeriggio la consegna nella Sala delle Acque del BIM. È un segno che vuole essere una vicinanza di un'amministrazione locale ai propri ragazzi, che sono poi il futuro. L'impegno, la capabilità, la costanza, il sacrificio che i ragazzi mettono nello sport e nello studio va riconosciuto. L'auspicio è che questi ragazzi restino sul territorio con le loro forze, le loro energie e anche le loro speranze per uno sviluppo socio-economico di quelle che sono le nostre valli. Oltre ai giovani sportivi, consegnate le borse di studio ai laureati negli anni accademici 20-21 e 21-22, con tesi di lauree a 20 come argomento, una questione inerente alla provincia di Sondrio. Davvero variegati gli approfondimenti che spaziano dalla storia dell'arte all'economia aziendale, dalle scienze dell'ambiente e del territorio alla geo-urbanistica all'agraria. Questi ragazzi e ragazze rappresentano il futuro positivo della nostra provincia. Importante è il percorso accademico di questi laureati, ha sottolineato il consigliere provinciale Maria Cristina Bertarelli, che lasciano un patrimonio di rilievo, di analisi, studio e ricerca per leggere e affrontare diverse problematiche del nostro territorio. Una curiosità, tra i laureati premiati è anche il sindaco di Novate Mezzola, Fausto Nonini, per la tesi di laurea triennale in scienze e tecnologie geologiche all'Università Bicocca di Milano, dal titolo Analisi delle dinamiche di caduta massi da versante roccioso nel comune di Novate Mezzola, mediante rilievi eseguiti con laser scanner e drone, acquisizioni di dati geomeccanici e prove di laboratorio. L'auspicio è che tanti giovani si dedichino alla vita amministrativa, abbiamo tutti iniziato abbastanza giovani, l'auspicio appunto è che si continui in questa direzione. Il rendere alla res pubblica, alla cittadinanza, quei doni che ciascuno ha, è una cosa importante per il futuro del nostro territorio e della nostra valle.